Nuove misure per contenere le tasse all'orizzonte senza rinunciare ai tagli della spesa e senza superare il tetto del 3% del deficit pubblico. Ad annunciarle il Vice Ministro dell'Economia Enrico Morando. Tra i provvedimenti allo studio del Governo ci sarebbe la riduzione delle imposte sulle persone fisiche, il cosiddetto IRPEF. In alternativa si penserebbe a taglio al cuneo fiscale, provvedimento che aiuterebbe se i lavoratori sia le aziende. Nel 2017, spiega Morando, ci sarà una riduzione delle tasse per le imprese di oltre 4 punti. Allo studio ci sarebbe anche il blocco dell'aumento dell'IVA per un triennio. In parallelo a queste misure continuerà anche la cosiddetta spending review, anche sulla scorta della riforma del bilancio e della riforma della pubblica amministrazione. Il risparmio al termine del 2016 per il Tesoro si avvicinerebbe ai 43 miliardi di euro. Intanto sta destando forti polemiche in Parlamento un altro provvedimento del Governo che rischierebbe di creare un forte disagio sociale. Si tratta di una misura che semplificherebbe il pignoramento di beni immobili da parte delle banche. Ad esempio, chi è in ritardo nel pagamento di sette rate del mutuo rischia di vedersi portare via la casa automaticamente, senza un provvedimento giudiziario.